Salve, mi chiamo Laura e faccio la maestra. Dopo un'interminabile giornata, a rincorrere i miei alunni, mi sfogo e mi ricarico accompagnando la mia cena con un immancabile Crazy Jack Poutine. La patata deriva proprio dalla scoperta dell'America che è avvenuta nel... Io, 12 ottobre 1492. Brava. Grazie, ho studiato. E da cosa deriva il nome Jack Potatoes? Da... 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 Un film? Forse... forse Jack lo squartatore. No, allora Jack quello del Titanic? No, era comunque una barca. Jack... Jack il pirata. Questa volta mi sa che dovrò proprio bocciarti. Somara. Proviamo a rimediare. Dove si mangiano le migliori Jack Potatoes? Oh, questo lo so. Naturalmente qui. Brava. Una patata ripiena, cotta al forno per intero. Il nome originale è Jacked, per la modalità di preparazione che lascia inalterata la buccia esterna, come se fosse una camicia. L'insieme della patata che si fonde con il formaggio fuso e il bacon croccante in un piatto unico veloce e gustosissimo. Ora sì che sono pronta per ripartire in una nuova giornata con le piccole pesti. Realizza anche tu un video sul tuo piatto preferito del nostro menù. I più divertenti saranno pubblicati sul canale YouTube ufficiale e nelle TV in store.